Claudia! Guarda qua quante uova di cioccolato ci sono! No! Claudia! Non mangiarla! Non mangiarla! Metti a posto! Brava! Ognuna di queste uova dà un potere speciale! Sì! Quale uova vuoi? Le voglio! Le voglio! Le voglio! Le voglio! Le vuoi tutte quante? Beh, un potere! A testa scegliamo uno di questi uovetti! Uovetti qua di cioccolato buonissimi che mi piacciono tanto! Allora, c'è questo qua a forma di coniglietto! Allora, poi c'è questo qua verde, il rosa, il giallo, il rosso e questo cos'è? Il limone! Che com'è questo? È caccola! Colore caccola! E poi c'è il viola! Va bene, scegliamone una! Oh! Aghi! Aghi vuole mangiare le caramelle! Ma queste qua sono le caramelle di Aghi! No, non l'avrei mai! No! Gli hai dato un ceffone! Sì! Aghi, sei vivo? Aghi? Vabbè, intanto mangiare! Però se Aghi o Aghi stava vicino alle caramelle, vuol dire che queste caramelle sono di Aghi! E possono essere cattive! Io prendo questo! Il coniglio? Sì! Claudia sceglie il cioccolatino a forma di coniglio! Tu quale vuoi? Mangia il coniglietto! Scatta! Vai bianco! Ti piace il cioccolato bianco? No! È cioccolato bianco! Allora questo lo do per te! Ok! Allora io mangio il coniglietto e vediamo cosa succede! Vediamo che potere darà il coniglio di cioccolato bianco! Mmm! Buono! Mmm! Ma che mi sta bufferendo? Mi sento un coniglio! Sono diventato un coniglietto! Mmm! 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 Una carotina! Mmm! 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 Devo bere la borrazza della VittoFamily! È l'unico modo per tornare normale! Mmm! 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 Finalmente! Non ce la facevo più! Sono salvo! Grazie alla borraccia della VittoFamily! Che potete avere anche voi su vittorialoffredo.it! A mele mele mu e si fuori prima tu! Non do questo! Il viola? Sì perché si fuori prima tu vuol dire che lei è... Ok! Oh! Stai per mangiare il cioccolatino viola! Chissà cosa succede! Andiamo! Mangia! Mmm! È buono? Mmm! Com'è? 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 Fondente! E ti piace il fondente? Però l'ho mangiato! Mmm! Come ti senti? Torio? Che c'è Claudia? Ti ho nascosto! Ma io ti vedo completamente dormire! Dormire! Claudia! Mi hai dato una scossa! Claudia fermati! Non ce la faccio più! Torio ci dai un abbraccio! No, non mi dai uno abbraccio! Aaaaah! Pudaya! Aaaaaaaah! Aaaaaaah! .. Aaaaaah! ēhhh! Ii figurati! Uwah! Uuuwah! Uuuuuh! Uwuh! C County! C-c-c-c-c-c- Cory- Mi brucia, mi brucia il sederino Ho il sederino elettrico Claudia, bevi dalla borraccia della VittoFamily Come ti senti? Mi dai ancora la scossa? No Scelgo allora questo giallo Assaggia, assaggia Chissà che cosa mi farà fare il giallo, vediamo È buono, è buonissimo Wow Claudia, questo qua è il più buono di tutti quanti Io mi sento benissimo Anzi, a dire il vero Mi sento un pochettino gonfio Claudia Che c'è? Mi sento un po' strano Claudia, devo fare la pipì La pipì La pipì Oh, 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 oh Claudia, mi sento le chiavi del bagno Le chiavi del bagno, le chiavi del bagno Le chiavi del bagno Bevi dalla vorraccia Claudia, mi sto facendo la pipì sotto Bevila Ma sei pazza? Non posso bere la vorraccia Se no mi faccio ancora più pipì sotto Vai, bevi ora Un ultimo bene a pipì Vai, bevi Va bene, bevo Ok, non devo fare più pipì Vai, prendi il rosso Vediamo che succede Rosso 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 È al latte Sì, te l'avevo detto che era al latte È al latte questo qua rosso Guarda Sì, lo sapevo che era al latte Ora assaggio Mangia, vediamo com'è Ciao ragazzi Che succede? Che succede? Come va? Ma quanto sei bella oggi Sei stupenda Ma che cosa stai dicendo, Claudia? Vieni qui Claudia, ma che stai facendo a Vera? Aiuto, Vittorio Aiutami, Vittorio Aiuto, non respiro Non respiro Ma cosa? Claudia, sei innamorata di Vera? No, per favore, stai con me No Vera Dai La vita è così ingiusta Vera Claudia, sei innamorata di te No, aiuto Lasciami, Claudia Lasciami, Claudia Vittorio, aiutami Vittorio Ma Vera, siete così belle voi due Aiuto Aiuto Fai innamorare le persone il cioccolatino rosso Dove sono andate quelle tue adesso? Oh mamma, speriamo che non abbiano combinato qualche guaio Cosa, perché piangi, Claudia? Vera non mi ama Oh, mi dispiace Bevi da questa borraccia Ti sentirai meglio Come ti senti? Buona Però tocca a me a scegliere il mio dolcino Allora, bambarabacci, ci, cocco Quale cioccolatino sceglierò? No Questo Vabbè Sceggo questo qua verde E dopo lo prendo Diamo il cioccolatino verde e vediamo che succede Ah, Claudia Vedo tutto quanto verde Claudia, tu sei verde Cosa? Sei verde, Claudia Sei verde Claudia, è verde Claudia, è verde Vera, tu sei verde Lasciami, lasciami se faccio vittoria E' tutto quanto così verde Tutti gli amici miei sono verdi Voi siete verdi E' tutto verde Vittorio Quanto io posso mangiare un altro cioccolatino? E' verde Ok, lo mangio E' verde, è tutto verde E' tutto verde Non è tutto più verde Ma rimane solo il rosa Rimane solo il rosa Sì, però Però dopo Sceglierò un altro normale Va bene, vai Vediamo che fa il cioccolatino rosa Sì Aprilo, aprilo Perché si fa Ah, ecco Due e tre Com'è? Il latte è buonissimo Che è successo? Claudia Claudia È buono? Claudia? Claudia Claudia, ti sei addormentata? A quanto pare Claudia si è addormentata Claudia Claudia Non si dorme sul tappeto degli altri Che c'è? Buongiorno Ti sei svegliata? Mi ha fatto addormentare Sognare E che è sognato? Un uovo Che ha mandato un cioccolatino verde Che era un altro uovo verde Che quel Che quel Vittorio Praticamente L'avevo mangiato E si è trasformato Che vedeva tutto verde Ma quello non era un sogno Nella realtà Sono finiti tutti quanti i cioccolatini E stiamo salvi Vivi E siamo salvi Peccato Volevo trasformarmi in un supereroe Saranno per i prossimi Io sono Vittorio Io sono Claudia E ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Interrompiamo il programma Per presentarvi Le magliette della Vitto Family Il prof a scuola vi ha dato troppi compiti Indossate maglietta e berretto Della Vitto Family E sarete talmente felici Da diventare super veloci E riordinerete la vostra cameretta In meno di un millisecondo Aiuto Vittorio Ciao Salva vita Freddy E grazie alle magliette della Vitto Family Avrete il super coraggio Freddy Ho la maglia della Vitto Family Non ho paura di te Ah Che fatica Ho tantissima sete E grazie alla BORRACHA E grazie alla Borraccia della Vitto Family Sarete sempre dissetati Al punto giusto Diventerete super coraggiosi Magliette, berretti, borraccia E molto altro su VittorioLoffredo.it Fissate le lucine in movimento Fissatele e sognate Ordinate oggi stesso i gadget della VittoFamily Disponibili su VittorioLoffredo.it Attenzione sono talmente belli che potrebbero accecare I vostri amici